Un patrimonio che sta crollando fisicamente e che è assolutamente necessario salvaguardare anche perché siamo convinti che sia importantissimo anche per un rilancio economico del territorio montano. Ecco infatti dicevamo che non è soltanto una questione sociale o turistica perché sono belle borgate un po' abbandonate ma c'è anche un valore economico. Quante sono queste borgate alpine in Piemonte? È possibile tenerne la contabilità? Credo che sia difficile in questo momento riuscire a fare un vero inventario anche se ci si sta lavorando e c'è il Dipartimento dell'Architettura Montana del Politecnico di Torino che sta lavorando proprio sia sul censimento sia sulle giuste linee guida per una ristrutturazione. Per intenderci siamo nella zona delle province, dei territori, tutto l'arco alpino del Piemonte. Tutto l'arco alpino. Come si inserisce questo progetto? Da che esigenza nasce? Ma sì, le case recuperabili oggi sono circa 20.000 in Piemonte. 20.000 case? 20.000 case in borghi abbandonati, semi abbandonati dove comunque c'è bisogno di un'attività di recupero molto forte. Un recupero che non è soltanto tecnico-architettonico ma come dicevi tu sociale ed economico. L'UNCEM ha avviato questo progetto nel mese di giugno per recuperare, grazie a capitali privati, quindi il pubblico in questo caso non c'entra, sarebbe difficile oggi chiedere un intervento agli enti pubblici, quindi chiedere ai soggetti privati, imprese, finanziatori, di investire su queste borgate per riqualificarle. È un progetto del tutto innovativo, si può fare riferimento ad esempio ai borghi dell'entroterra Ligure o ai borghi delle Langhe, ai borghi della Toscana, dove questo processo era già avvenuto. In Piemonte non era mai avvenuto, tranne grazie a un progetto importante della regione Piemonte, avviato nel 2009, che aveva, grazie a 40 milioni di euro, riqualificato 30 borghi e i progetti stanno partendo in questi mesi. Noi però come UNCEM abbiamo invertito questo meccanismo, chiedendo alle imprese private di investire e i risultati sono stati molto importanti. Poi c'è anche la classifica dei borghi più belli d'Italia, sarebbe bello poi che qualcuno del Piemonte ci finisse in questa speciale graduatoria. A che punto è il progetto? Noi abbiamo lanciato, certo, abbiamo lanciato il 5 giugno 2012 una richiesta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati. Così da fare anche quel censimento a cui accennava Manuela, un censimento che facciamo grazie ai comuni che vogliono segnalare i borghi recuperabili. In due mesi, nei due mesi estivi, abbiamo raccolto circa 500 manifestazioni di interesse da parte di imprese, architetti, comuni, soggetti privati intenzionati a vendere e abbiamo soprattutto, grazie all'impresa, messo insieme quasi 4 milioni di euro per il recupero delle borgate. Ma ce li mettono le imprese? Sì, le imprese che vogliono investire. Cioè un'impresa investe, riqualifica la borgata, le proprie spese? Esatto, l'impresa sceglie di acquistare queste case. Il valore possiamo darlo, un valore medio per l'acquisto iniziale di 100 euro al metro quadro, grosso modo, sono case che stanno andando giù, che hanno uno stato conservativo abbastanza scarso, sono comunque case da recuperare con un progetto complessivo di ricostruzione e possono appunto con 100 euro acquistarle, a 100 euro al metro acquistarle e la riqualificazione noi stimiamo che debba stare sotto i 1500 euro al metro quadro. Posso aggiungere quella che secondo me è la pensata straordinaria di questo progetto. Normalmente quando qualcuno di noi ha una vecchia casa del nonno da qualche parte in montagna un po' lasciata andare, se anche pensa a riqualificarla, chiama un'impresa, si fa fare un preventivo, poi capisce che siccome le strade sono impervie, siccome è lontano, siccome tutto intorno sta cadendo, eccetera. Tanto non ci andrei mai. No, i costi sono talmente alti che si desiste e quindi vengono lasciati abbandonare e cade tutto. L'idea di fare in grande scala, avere delle economie di scala perché non si compra la singola casa, si compra la borgata e si lavora su tutto in contemporanea, fa sì che all'impresa i costi scendano tantissimo e soprattutto che quello che ne viene fuori sia appetibile perché non sei più da solo. Nel momento in cui qualcuno va a comprare o a reinsediarsi lì, perché l'idea è questa, l'idea non è facciamoci la seconda casa per la vacanza, ma rendiamo abitabili questi luoghi. A Torino le imprese non sanno più dove costruire perché non c'è più nessuno che compra, i cittadini torinesi non sono più in grado di comprarsi una casa e a volte non hanno il lavoro. In montagna potrebbero ricomprarsi la casa e inventarsi un lavoro lì.